Il GIP del Tribunale di Roma ha rigettato la richiesta di patteggiamento di Luca Richeldi, professore ordinario delle malattie dell'apparato respiratorio all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e direttore dell'Unità Operativa Complessa di Pneumologia dell'ospedale Agostino Gemelli. Richeldi aveva chiesto di patteggiare la condanna a 10 mesi con il pagamento di una pena pecuniaria di 49.000 euro e accusato di violenza sessuale aggravata dal rapporto con la paziente. I fatti risalgono al 2022 durante alcune visite a cui la donna doveva sottoporsi quando era malata di covid per l'avvocato Ilaria Basanti che assiste il professore. Il patteggiamento sarebbe stata la soluzione migliore perché pur penalizzante per Richeldi sicuramente non sarebbe stata dannosa per la parte offesa. Inoltre avrebbe consentito di evitare entrambi un lungo e doloroso percorso processuale. Ora si valuteranno le prossime mosse.